Musica Buona domenica e bentrovati con il consueto riepilogo delle notizie della settimana che si è appena conclusa. Lunedì 21 febbraio tre giovani in manette in seguito a un violento pestaggio in centro città. Gli arresti dei carabinieri arrivano dopo un intensificarsi dei controlli nei luoghi della Movida palermitana dove sempre più spesso si verificano episodi criminali. A Palermo controlli stringenti dei carabinieri nei giorni e nei luoghi della Movida che più volte hanno registrato episodi di microcriminalità. Durante uno dei servizi, i militari della stazione Carabinieri di Palermo-Oreto hanno infatti tratto in arresto tre giovani di 22, 25 e 30 anni, rientruti gravemente responsabili secondo l'ipotesi accusatoria di un violentissimo pestaggio posto in essere nel centro cittadino in piena notte. Una pattuglia dei militari nel corso dell'attività di controllo del territorio ha infatti sorpreso i tre giovani intenti a colpire un ragazzo riverso a terra con calci e pugni e utilizzando una bottiglia di vetro. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di trarre in arresto nella fragranza uno degli aggressori e di mettere in fuga gli altri due, scongiurando così più gravi conseguenze per la giovane vittima. Le suggestive indagini coordinate alla Procura e la Repubblica di Palermo hanno consentito ai militari di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli altri due complici datisi alla fuga. Il giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale Procura ha emesso a loro carico un provvedimento cautelare al quale i carabinieri hanno dato successivamente esecuzione, sottoponendo entrambi i giovani agli arresti domiciliari con la misura del braccialetto elettronico. Analoga misura cautelare è stata applicata in occasione della convalida dell'arresto nei confronti del giovane bloccato nell'immediatezza dei fatti. Maggiori attenzioni e ascolto per il personale socio-sanitario è quanto emerge dalla nota di Nino Amato, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo in occasione della giornata dedicata al personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale del volontariato. Tante le criticità emerse durante la giornata nazionale dedicata al personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato. A fare il punto sulla situazione Nino Amato, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo, che afferma, momento che non deve servire a fare sfoggio di facile retorica, ma deve essere invece l'occasione per accendere i riflettori sul valore di professionisti che sono stati e sempre saranno in prima linea per garantire e tutelare la salute dei cittadini. Non ci interessa essere eroi per un giorno, noi vogliamo che siano riconosciuti e valorizzate le nostre competenze. Amato continua a spiegare come a oggi non siano stati varati interventi e azioni concrete per questa categoria professionale e continua. Consenso di responsabilità etica e deontologica, pur a rischio della propria vita, sin dall'inizio della pandemia, gli infermieri hanno continuato a restare al loro posto in trincea. Non abbiamo chiesto applausi o premi perché questo è il nostro dovere, ma non possiamo accettare di essere penalizzati e che le nostre prerogative non siano rispettate. La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ha lanciato lo scorso 12 febbraio gli stati generali della professione infermieristica. Attraverso una consultazione pubblica e trasparente, tutti i 456.000 infermieri italiani saranno chiamati a esprimere la propria posizione sui temi più importanti per la professione, che gli ordini provinciali analizzeranno e metteranno a sistema assieme al Comitato Centrale della Federazione. Saranno quindi elaborati una serie di posizionamenti provvisori che saranno sottoposti a confronto con tutti gli organi consultivi e, infine, con gli stakeholder esterni. Vogliamo e dobbiamo dare voce agli infermieri per guidare il cambiamento dell'attuale sistema e intendiamo farlo attraverso modalità differenti da quelle tipiche delle rivendicazioni di piazza. Il momento è cruciale, le scelte della politica di oggi avranno ripercussioni almeno per i prossimi vent'anni, ha concluso il Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo. Martedì 22 febbraio, Palermo, corruzione all'Ast. Ai domiciliari il Direttore Generale Fiduccia. Otto sospesi, nove misure cautelari, sedici indagati. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito misure cautelari nei confronti di nove persone. Gli indagati, in totale sedici persone, sono accusati di corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini riguardano la società interamente partecipata dalla regione siciliana che svolge il servizio di trasporto pubblico locale, sia a livello urbano che interurbano. Ad emergere, secondo gli elementi raccolti, sarebbe stata una gestione societaria, superficiale e privatistica da parte dei vertici aziendali, che avrebbero violato le norme di trasparenza pubblica e colluso con i referenti di alcune imprese, turbando diverse procedure di appalto, tra cui quelle per l'acquisto di pneumatici a danno di altri possibili fornitori, l'approvvigionamento di autobus aziendali e l'affidamento del servizio di revisore contabile, oltre alla fornitura di servizi per le fasi di start-up di una compagnia aerea. Indagato il direttore generale dell'azienda per corruzione, secondo le indagini avrebbe conferito illecitamente l'incarico di revisore contabile a un professionista amico, il quale in cambio avrebbe omesso la rilevazione di irregolarità contabili per non inificiare i bilanci della società. Sempre in cambio di vantaggi, tra cui la promessa dell'assunzione di propri familiari, avrebbe commesso atti contrari ai doveri del proprio ufficio, tra cui la predisposizione di una procedura di gara per la fornitura di servizi per lo start-up di una compagnia aerea del valore di 2.150.000 euro, al fine di consentirne l'aggiudicazione a una società appositamente individuata grazie a requisiti ritagliati sul misura. Durante le indagini, infine, sarebbero state riscontrate un'ipotesi di truffa aggravata in danno nell'azienda pubblica, commessa dai referenti alla società giudicataria del servizio di bilettazione elettronica, del valore complessivo di 3,2 milioni di euro, attraverso l'utilizzo di documentazione falsa, al fine di simulare il possesso dei requisiti previsti nel bando. Una frode in pubblica e forniture nella somministrazione di lavoratori a tempo determinato da parte dell'Agenzia di Lavoro Interinale, aggiudicataria dell'appalto del valore complessivo di 6 milioni di euro, in quanto le assunzioni sarebbero state influenzate da logiche di natura politica, piuttosto che dalle effettive necessità aziendali. Maxi Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, 86 arresti tra Sicilia e Calabria, diversi reati contestati, associazione mafiosa, detenzioni di droga, essorzione e scambio elettorale. Alle prime luci dell'alba in Sicilia e Calabria, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato il via ad una maxi-operazione. I militari hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare emesse su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Messina, dal GIP del locale tribunale, nei confronti di 86 persone. Sul conto degli indagati, il GIP ha riscontrato gravi indizi di colpevolezza in ordine e delitti, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, scambio elettorale, politico mafioso, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto illegale di armi, incendio, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione con l'aggravante del metodo mafioso. L'attività investigativa è il risultato di una più ampia, progressiva e strutturata manovra condotta dal 2018 ad oggi e coordinata dalla Procura Distrettuale di Messina, finalizzata a disarticolare l'attuale operatività della famiglia mafiosa dei barcellonesi, storicamente radicata nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, capace di esercitare un costante tentativo di infiltrazione in attività imprenditoriali e di economia lecita sia nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, sia nella conduzione del business dei locali notturni e ricreativi del litorale tirrenico nell'area di Milazzo, in cui, oltre a imporre i servizi di sicurezza mediante l'utilizzo di metodi coercitivi e intimidatori, l'associazione mafiosa è sovente intervenuta per condizionare i titolari nell'attività gestionale. Mercoledì 23 febbraio, scandalo gigenti acque. La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio a 47 indagati. Tanti nomi illustri da Campione a Micicheda, scoma all'ex prefetto Diomede. Chiesto il rinvio a giudizio di 47 indagati nell'ambito dell'operazione Waterloo della DIA, Guardia di Finanze e Carabinieri. La Procura di Agrigento, con l'aggiunta Salvatore Vella e il pool di sostituti, composto da Antonella Pandolfi, Paola Vetro e Sara Varazzi, sostiene che professionisti, politici, istituzioni e forze dell'ordine fossero, secondo l'accusa, serviti a Girgenti Acque, la società che si occupava della gestione del servizio idrico nell'Agrigentino, in cambio di favori e posti di lavoro per familiari, amici e amanti. Il pool di PM non arretra rispetto all'impostazione originaria che ha portato, sette mesi fa, ai fermi di otto persone. Fermi che però non superarono il vaglio di GIP e Tribunale del Riesame, che rimise tutti in libertà. L'inchiesta Waterloo ruota intorno alla figura dell'imprenditore Marco Campione, ex presidente Dominus di Girgenti Acque, al quale si contesta di avere messo in piedi un sistema di corruzione a tutti i livelli. Oltre al sessantenne imprenditore, titolare di una catena di aziende che operano nel commercio di diversi settori, erano finiti in carcere altri sette collaboratori. Nella lista dei 47 indagati a cui è stato notificato l'avviso di fine inchiesta, ci sono i vertici di Girgenti Acque, prima del commissariamento avvenuto nel novembre del 2018, politici, professionisti, forze dell'ordine, l'ex prefetto Nicola Diomede, accusato di avere salvato Girgenti Acque da una interdittiva antimafia, e il presidente dell'Arsa Gianfranco Miccica, al quale si contesta l'accusa di finanziamento illecito al partito. Pre-reati contestati, l'associazione a delinquere, il concorso esterno, l'abuso di ufficio e la truffa. Sotto inchiesta anche Giovanni Pitruzzella, avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Anche a Palermo i lavoratori del gruppo team hanno scioperato contro l'ipotesi di scorporo della rete per l'unicità dell'azienda difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del gruppo. Ai primi di marzo l'amministratore delegato dovrebbe presentare il nuovo piano industriale, dove la nostra preoccupazione è che venga rilevata poi un'ascissione rispetto a quelli che sono i pezzi più pregiati dell'azienda, che potrebbero essere svenduti, con rigadute occupazionali che solo nel nostro territorio, il territorio siciliano, computa più di 2.000 lavoratrici e lavoratori e mi stia mettendoci anche l'indotto altre migliaia di famiglie che rischierebbero il posto di lavoro e una ricaduta dal punto di vista economico rispetto a quelli che sono i propri stipendi e quindi la capacità di acquisto che hanno come famiglie. Un settore strategico come telecomunicazione. Proprio in un momento in cui si parla e sono arrivate e stanno per arrivare fondi europei attraverso il PNRR che sono fondi, non scordiamocelo, che buona parte sono a debito quindi sono debiti che noi carichiamo per il futuro, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ebbene, questi soldi dovrebbero garantire un'occupazione più stabile, uno sviluppo del settore delle telecomunicazioni che è il settore che è quello che sarà impattato nel futuro sull'e-commerce, sulla telemedicina e invece si parla sempre di un settore che è in crisi e quindi ovviamente si parla più di mercato che anziché di industria e di prospettiva futura del lavoro. Siamo in piazza in tutta Italia per sollecitare l'apertura di un tavolo con la presenza del Consiglio e mettere a nudo e in trasparenza il futuro di 40.000 lavoratori che non può essere affidato a soluzioni solo relegate alla finanza e alla borsa italiana. Qua c'è un patrimonio tecnologico umano che è del paese e va salvaguardando. Noi siamo per una rete unica ma che preveda non lo scorporo di questa grande azienda ma che preveda le giuste regolamentazioni nei confronti alla concorrenza ma un progetto unico e integrato di tipo verticale. Lo spezzatino non ci convince. Noi oggi siamo qui a Palermo, abbiamo chiesto di parlare al Presidente della Regione Musumeci per attenzionare i problemi e il pericolo che può accadere. Quindi se c'è uno scorporo della rete, una frammentazione delle professionalità col rischio di perdita anche di migliaia di posti di lavoro. Quindi chiederemo al Presidente di convocare un tavolo con tutte le principali aziende di telecomunicazione a livello regionale per poter affrontare le sfide future che ci chiede il digitale. Una presenza sul digitale e accogliere anche le eventuali, diciamo, parlare con le Università di Palermo e Catania dove escono i migliori ingegneri in informatica, telecomunicazioni e del mondo digitale per creare le basi e un centro di ricerca per le opportunità per poter guardare anche ai paesi del Mediterraneo. Giovedì 24 febbraio, iniziata l'invasione delle truppe russe in Ucraina e guerra. Il mondo si interroga. In Sicilia, sede della base NATO di Sigonella, c'è preoccupazione. La guerra ha ragioni economiche, ma anche profonde radici storiche. Ne abbiamo parlato con Pasquale Amelle, storico e saggista. La Russia invade l'Ucraina. È scoppiata la guerra nel cuore dell'Europa. Quali sono le ragioni storiche di questo conflitto che oggi purtroppo siamo costretti a raccontare? L'implosione dell'Unione Sovietica ha creato una situazione estremamente complicata. Ultimamente Putin ha tentato di rivendicare l'orgoglio dell'antico impero zarista. In pratica vorrebbe, a mio modo di vedere, naturalmente, vorrebbe ricostituire quella che era la vecchia cintura dei confini geografici dell'impero zarista. E questa è una delle sue vocazioni. È un tentativo di rimettersi in gioco a livello mondiale. Quanto comunque queste ragioni storiche siano reali e quanto invece non costituiscano un pretesto che nasconde delle ragioni di tipo economico? Certo, le ragioni storiche hanno un loro peso, un loro fondamento. Visto che l'Ucraina, dal 1917, da quanto Lenin, con il decreto delle nazionalità, riconobbe le varie entità territoriali, l'idea di nazione e le varie realtà territoriali, ha avuto questa sua identità. Naturalmente ci sono tanti altri problemi, che sono anche problemi di natura economica, oltre che militare. La Russia in effetti si sente, ma questo è accentuato dalla personalità del suo leader, si sente accerchiata dall'allargamento della NATO e questo ha un significato molto importante, perché galvanizza anche l'opinione pubblica russa. I russi amano il loro impero e continuano ad amarlo. Anche la chiesa ortodossa, in questo senso, rischiera con gli aggressori, con Putin, appunto. La base aerea NATO di Sigonella in Sicilia continua ad essere al centro del braccio di ferro tra NATO e Russia. I mari del sud sono considerati zona pericolosa, ma qual è il ruolo e quali sono i rischi per la Sicilia? Certo, ci sono anche dei problemi per la nostra terra, per la Sicilia. La base di Sigonella è una base importante e significativa. Tuttavia, io credo che alla fine la ragione prevarrà, perché è chiaro che una guerra di questo tipo non può essere portata avanti più oltre un certo livello, un certo limite, perché si sa quali conseguenze potrebbero derivarne. Dal primo aprile cesserà lo stato di emergenza, stop ai colori delle regioni e scuole sempre aperte. Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio, in Sicilia, per la terza settimana consecutiva, cala la curva dei contagi. Lo stato di emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo, ad annunciarlo il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dal primo aprile, dunque, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti, con l'eliminazione delle quarantene da contatto. Cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quelle delle mascherine FFP2 in classe. Gradualità, invece, sull'eliminazione del Green Pass rafforzato, che non sarà più obbligatorio per le attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. E intanto in Sicilia, per la terza settimana consecutiva, si assiste ad un trend in diminuzione nella curva dei contagi. L'incidenza di nuovi casi è pari a 37.132, meno 13,79%. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, 1.211 su 100.000 abitanti, Messina, 996 su 100.000, Galtanissetta, 810 su 100.000 e Ragusa, 807 su 100.000 abitanti. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 e i 10 anni, 1.771 su 100.000 e tra i 3 e i 5 anni, 1.620 su 100.000 abitanti. Si consolida per la sesta settimana consecutiva il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nella fascia d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attesta al 27,99% del target regionale. 64.020 bambini, pari al 19,87%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano all'89,53%, mentre ha completato il ciclo primario l'87,36%. Complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva sono 2.495.103, pari al 73,96% degli aventi diritto. E ancora 878.376 cittadini che possano effettuare la somministrazione booster non l'hanno fatta. Dal 1 marzo inizierà anche in Sicilia la somministrazione della dose di richiamo booster nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria. Infine il da sua evidenzia che una circolare del Ministero della Salute fornisce indicazione sull'utilizzo del vaccino Novavax, la cui fornitura nel breve termine è in fase di programmazione. Venerdì 25 febbraio il sindaco di Palermo esprime solidarietà al popolo ucraino dopo l'aggressione russa, una guerra annunciata sulla quale l'Occidente ha tenuto gli occhi chiusi. La guerra in Europa ha sorpresa. Nel cuore dell'Europa l'aggressione militare russa è veramente una sfida alla democrazia, alla libertà, ai principi fondativi dell'Unione Europea. Da questo punto di vista è gravissima responsabilità di Putin che sta mettendo a rischio non soltanto la vita di tante persone ma anche al tempo stesso la tenuta stessa nel sistema mondiale di pace. La pace è un diritto. Il Palermo ha manifestato con molta forza il no alla violenza, il no alla guerra, il no all'aggressione russa e al tempo stesso il diritto alla pace, che è il diritto dei diritti. Credo che sia un momento molto duro, molto pesante. Da questo punto di vista deve essere chiara la solidarietà della città di Palermo per il popolo dell'Ucraina, al tempo stesso espressa da me come sindaco ai colleghi sindaci di quel paese, alla comunità ucraina che vive a Palermo nell'apprensione, in mancanza di notizie o in attesa di notizie spesso tragiche, i familiari e cari rimasti nel loro paese. Sembra che l'Occidente abbia tergiversato, abbia atteso troppo qualcosa che poi si è rivelato un dramma. Questo è il dramma che si rivela tutte le volte, che si hanno rapporti economici e dipendenze economiche da paesi che non rispettano i diritti. È il prezzo che si paga quando si chiudono gli occhi di fronte alla violazione dei diritti. Purtroppo l'Europa ha chiuso gli occhi di fronte alla violazione dei diritti in Russia e lo chiude anche nei confronti di altri paesi. Questo poi crea una condizione di oggettiva debolezza e ricattabilità anche dell'Unione Europea. Max si truffa in materia di prestazioni previdenziali. Con nazionali emigrati, da anni fingevano di risiedere in Italia per beneficiare dell'assegno sociale. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato oltre 200.000 euro. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 200.000 euro a sette soggetti di origini siciliane, ritenuti responsabili, secondo ipotesi d'accusa, di avere indebitamente percepito negli anni il cosiddetto assegno sociale erogato dall'Inps. Le indagini sono state condotte alle fiamme gialle della compagnia di Taurbina e coordinate alla Procura della Repubblica di Messina. L'assegno sociale ha sostituito la preesistente pensione sociale a natura marcatamente assistenziale, essendo destinata a coloro che versano in condizioni economiche manifestamente disagiate, ed è erogato dall'Inps in 13 mensilità. La sua concessione è vincolata anche e soprattutto a requisiti anagrafici, essere cittadini italiani superiore a 66 anni e 7 mesi, con stabile e continuativa dimora nel territorio italiano per almeno 10 anni. Non è sufficiente il mero dato formale della residenza, tal che l'eventuale prolungato soggiorno all'estero diventa causa di perdita della prestazione previdenziale. Proprio quest'ultima circostanza ha costituito il principale elemento su cui si è focalizzata l'attenzione investigativa. In particolare, le investigazioni si sono concentrate sui soggetti destinatari dell'odierno provvedimento cautelare, i quali solo formalmente risultavano essere rientrati in Italia da paesi sudamericani e europei, aver ottenuto la residenza in piccoli comuni della fascia ionica della provincia peloritana, per poi, anche nel giro di pochi mesi, presentare richiesta di percezione del beneficio. Gli accertamenti tuttavia hanno restituito, secondo ipotesi investigativa, e che dovrà comunque trovare conferma nei successivi gradi di giudizio una realtà completamente diversa. È emerso, infatti, un fittizio trasferimento della residenza in Italia, non appena raggiunta l'età minima per accedere alla prestazione previdenziale, attraverso un'articolata catena di false dichiarazioni e varie condotte artificiose finalizzate, nel loro complesso, a trarre in gano l'interrogatore, in ordine alla sussistenza, in capo ai cittadini richiedenti, dei requisiti di legge per il riconoscimento del beneficio economico. Sabato 26 febbraio sono stati completati i lavori di potenziamento e messa in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo, un'infrastruttura moderna e funzionale, pronta a diventare punto di riferimento per il diportismo e l'economia turistica di tutto il Trapanese. Il lavoro premia, devo dire appena insediato la prima cosa che ho fatto è raccordarmi col Governo regionale che non finirò mai di ringraziare. È un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché il Governo regionale ha lavorato assolutamente bene anche in previsione di completare questo porto. Non dimentichiamo che è stato già finanziato il completamento con altri 9.250.000 euro, che c'è una gara in corso, che si aggiudicherà a breve e che quindi non più tardi dell'inizio dell'estate cominceranno i lavori di completamento. Sono contento che il Governo regionale abbia potuto mettere la parola fine ad una vicenda tormentata che porta con sé errori e omissioni della politica da una parte e della burocrazia dall'altra. In termini di infrastrutture e di infrastrutture portuali abbiamo lavorato con grandissimo impegno. L'assessore Falcone aveva questo mandato, produrre, 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 senza distrazioni. E così è stato. Abbiamo speso circa un miliardo e mezzo in termini di infrastrutture, i piccoli porti non erano mai stati al centro dell'attenzione del Governo regionale. e l'esempio di Castellammare, che piccolo porto non è per la sua storia, per la sua tradizione, per il suo ruolo che è chiamato a svolgere, oggi può finalmente guardare al futuro con legittima prospettiva. Quindi guardiamo avanti, abbiamo ancora tanti altri gantiere da aprire e da chiudere perché già completati. In questi otto mesi faremo in modo che non rimanga nulla in sospeso. Un'opera persa, un'opera su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Oggi la consegniamo alla fruizione pubblica. Di fatto ancora dobbiamo concludere alcuni addendimenti, ma soltanto burocratico o amministrativi, ma come vedete l'opera di fatto è realizzata. Dobbiamo continuare nella successiva fase, la messa in sicurezza di quell'opera che anche è dietro le mie spalle, che servirà appunto, è la barriera che servirà a garantire la sicurezza a questo meraviglioso porto, su cui il governo musumeci scommette, ma scommetterà in sinergia con l'amministrazione comunale perché ci siano un domani anche dei collegamenti verso e da legali. L'atleta paralimpico siciliano Giovanni Cipri ha vinto il suo ottavo scudetto di Torbal. Tanta soddisfazione per questo importante risultato ottenuto e nuovi obiettivi da raggiungere. Il Torbal è un gioco sportivo a squadre per non vedenti, in cui si fronteggiano due team composti ciascuno da tre giocatori. L'atleta paralimpico palermitano Giovanni Cipri, vincitore di ben otto scudetti, è l'unico con più vittorie in Italia, detentore di altri titoli nazionali come 5 Coppa Italia e altrettante Supercoppe italiane, ma anche a livello internazionale insieme al gruppo sportivo del Trento è laureato campione del mondo per club nel 2014. Molto spesso viene detto che il Torbal è un calcio per non vedenti, in realtà è più una palla a mano per non vedenti. Si gioca in un campo lungo 16 metri e largo 7 e si gioca in tre giocatori contro tre bendati. Il gioco può essere praticato sia da persone con una migliorazione visiva come i non vedenti, anche tra i ipovedenti, coloro che hanno un residuo visivo, ma anche tra i normovedenti. Tutti verranno bendati sia con le bende oftalmiche che con una maschera appositamente oscurata. Io fin da piccolo, anche per termini un po' in forma, facevo atletica leggera, mi andavo allo stadio delle palme, mi allenavo, ancora ero ipovedente. Poi un giorno vedi per caso in televisione la premiazione di alcuni atleti disabili e dissi ma perché io non posso gareggiare? Un giorno per caso mi chiamarono perché un giocatore per motivi familiari non poteva essere presente all'ultima di campionato di Serie C e io andai come panchina attaccapanni, cioè gli altri stoio con la tuta quando scendevano in campo e me la poggiavano addosso. L'ultima partita, l'ultima giornata, quando il Palermo ormai non aveva più niente da dire, la situazione era ben delineata, chiesi all'allenatore un po' per curiosità, un po' perché mi intrigava venerli giocare, sta palla, eccetera, eccetera, di provare. Noi abbiamo vinto quella partita, io feci quattro gol e gli arbitri dissero avevate il migliore giocatore in panchina e non l'avete fatto mai giocare. Giovanni Cipri, ipovedente da oltre vent'anni, non ha mai permesso che questa sua condizione fisica limitasse la sua capacità di amare la vita e di limitare il suo amore per lo sport. È un percorso che viene fatto a, come si dice, mano a mano. Questo, grazie anche allo sport, che mi ha permesso di viaggiare e di conoscere tanta gente. Il nostro è uno sport di squadra. Senza i miei compagni non avrei mai ottenuto questi risultati. L'atleta paralimpico Giovanni Cipri è già in pieno allenamento per altri importanti obiettivi. I prossimi obiettivi intanto fra due settimane a Ispica la società siciliana delle Sette Colli ospiterà le Final Six di Coppa Italia. E poi adesso all'orizzonte siamo stati invitati, visto che siamo i campioni in Italia, al torneo internazionale della Costa Azzurra il 2 luglio a Nizza. Ancora buona domenica. Anche per oggi è tutto. Vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News. Buona domenica. Grazie a tutti.